Ah Ho capiiito Questi qua sono tutti materiali per Livellare e ascendere i pg Costa energy vero 50 di energy Ah ma puoi Ah ma ti puoi mettere i drop che vuoi però Ah ti puoi mettere i drop che vuoi Slash agent Strike agent Pierce agent Puoi personalizzare i nemici in base ai materiali Che ti servono Sì ma sono 50 di energy a botta Mannaggia al zero minchiot Ah beh ti da un po' di roba Appena inizi però Cioè cos'è aumenta l'energy dopo Ma cosa è meglio Smetto di far male prima Aspetta aspetta No no Susie può aspettare Fate i cazzi tuoi Allora aspetta un attimo Bella Sheer come stai No 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 Aspetta Fammi fare sta roba aspetta Allora lei cos'è che vuole Gli slash Ok Tu vuoi pierce immagino Assault Quindi slash Assault Fai un attimo il 20 Ok Tu cos'è che vuoi Strike Pratico di pioggia F Ok Quindi se io adesso vado A fare Warr Difficoltà Tolgo tutti i nemici E scelgo solamente i materiali Che mi interessano a me Quindi cleave no Strike Me ne sarò Ma ne posso mettere più di uno? No Linked Cleave Ah ma non ci sono tutti Uè Ma non ci sono tutti Ah ma non ci sono tutti Ah Ah V-engine coil V-engine diafram V-engine polarizer Ah ok 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 no Never mind Never mind Ogni volta che scelgo un materiale diverso Sono 20 Ah ok Ogni volta che scelgo un materiale diverso Sono 20 di energy Per i quelli grossi Per le trace I materiali per le trace Sono 20 di energy alla volta Ah ok Devi metterli in slot diversi Ok ho capito Eeeh Aspetta un attimo Fammi rivedere che cosa mi serve Ehm Vai da lei Equipaggiamento Ok upgrade Engine polarizer Per fare dal 10 al 20 Ok Chiede i polarizer in tutto T Ah no Magnet Ah no Questo è quello che ho messo sul tipoli No Quello che ho messo sull'orso Questo Magnet Ok Vuoi fare con una run Lo stesso materiale Troppato più volte No Fammi vedere Magnet Diafram Polarizer Ok Questi sono i vari Per le armi E già mi costa 60 di energy Sta roba Ok Già mi costa 60 di energy In un colpo solo Sta roba Expo per gli agenti Expo per gli agenti Expo per gli agenti Expo per gli engine Quindi io posso tenerlo anche da 3 Non potrei craftare 60 al giorno Mura Ne hai 180 al giorno tua Di refresh Cioè di refresh Di base E più 60 che puoi craftarti Quindi 240 totali Ok Vai proviamo No Ah ok Proviamo la gang qua Proviamo la gang del bosco qua Vediamo Andiamo Ok Ok Uh bella sta parata Vabbè ma lei fa troppo danno Ok Stile onkai Stile onkai Con la base Della mappa Di star rail Quindi Mi ha droppato Due di questi Sei di questi Blu Uno di questo Ah no Sei verdi Ah vedi vedi Ok Sei 100 di expo Quindi ogni 10 di energy Sono 100 di expo Ok Ho finito l'energy Ho finito l'energy Ho finito l'energy Ho finito l'energy Ciao salvo, salvo vai tranquillo Io su youtube se vuoi quando c'hai voglia Se te lo vuoi mettere come background Ricaricherò tutto quello che faccio su Zenless Usa stirefi Eh ma Aspat non so se mi serve Perché Aspat Qua abbiamo fatto un paio di mission Ah vedi che pian piano Ti ridanno altre robe per mettere Più materiali insieme praticamente Ok Ho capito